Ma adesso andiamo a leggere la parola di Dio, perché oggi è la Domenica delle Palme e quindi voglio spiegare bene cosa dice la parola al riguardo, non la tradizione che conosciamo, ma la parola di Dio che è la verità, la parola ci rende liberi da tante forme, da tanta tradizione che sono solo delle gabelle insomma su di noi. In Matteo 21,6 è scritto così i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, condussero l'asina e il puledro, posero su questo i loro mantelli e Gesù vi montò sopra. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. Le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridavano dicendo Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. In Giovanni 12,16 lo stesso episodio è riportato, ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva resuscitato dai morti gli rendeva testimonianza. Inoltre c'è un versetto di Luca che dice che a un certo punto interviene un maestro e dice sgrida questi discepoli che ti stanno innalzando troppo e Gesù dice se costoro non parlassero paderebbero le pietre. E noi non vogliamo far parlare le pietre, vogliamo fare in modo di essere noi i cantori, coloro che annunciano e coloro che parlano di Gesù perché Gesù merita di essere annunciato, merita di essere vissuto, merita di essere contemplato, merita fratelli perché noi siamo tanto riconoscenti a delle persone che ci fanno poco rispetto a quello che Gesù ha fatto per noi. La riconoscenza è importante. Ma andiamo alla domenica delle palme. Nella tradizione giusta molti portano, comprano le palme, a volte anche delle decorazioni, poi a tavola si bagna la palma, si benedice la tavola. Questa è una tradizione che però se non è fatta con il cuore non serve, è solamente una ripetizione dei gesti senza contenuti perché dietro ogni gesto, dietro ogni attenzione che abbiamo per Dio o manifestazione o quando manifestiamo una testimonianza ci devono essere dei contenuti, cioè ci deve essere dietro un corrispettivo, una vita vissuta, una realtà di quello che stiamo facendo. Perché in effetti la domenica delle palme in Giovanni è scritto che sei giorni prima, sei giorni prima della Pasqua, Gesù si presenta a Gerusalemme. Sei giorni prima e tre giorni prima di essere crocifisso e quindi sei giorni prima di essere risuscitato. Come vedete è un evento in sei giorni incredibile. Gesù sapeva cosa sarebbe successo lì, sapeva cosa sarebbe successo a Gerusalemme. Lui per questo era venuto. Tant'è vero che i discepoli non compresero, vi ho letto apposta il passo in Giovanni XII, i discepoli non compresero che tutto era stato fatto per lui, che tutto è stato fatto perché era scritto di lui e perché tutto è stato fatto per Gesù Cristo, perché lui doveva essere innalzato sulla croce affinché noi potessimo gioire questa mattina. Il fatto concreto che c'è è che Gesù pur sapendo di offrire se stesso e di patire sulla croce, nonostante avesse questa agonia preparata per il Getsemane, pronta per il Getsemane, nonostante sapesse cosa doveva affrontare, lui permise alla folla che non sapeva, non sapeva quello che stava facendo, ma gioiva del fatto che Gesù stesse per arrivare a Gerusalemme. Ora qualcuno potrebbe dire, pastore ma perché il Signore ha fatto cantare queste persone, le ha fatte lodare, hanno tagliato le palme, hanno tagliato gli ulivi, alzavano, cantavano, osanna, osanna al Signore, nonostante non comprendessero quello che Gesù stava facendo, quello che Gesù doveva fare. Perché i fratelli? Allora il Signore l'ha lasciati fare per un semplice motivo, perché la verità anche senza contenuti rimane grande, la verità è sempre grande. Tanto è vero che Gesù quando parla dei farisei, dei religiosi, dice fate come loro dicono, non come loro agiscono. E anche in Giovanni 11 il sommo sacerdote che era contro Gesù profetizzò e disse è meglio che uno muoia per la nazione. Quindi vuol dire che anche se l'involucro, anche se l'involucro a volte, se la persona non è all'altezza, comunque rimane una verità, rimane una verità che è quella del Vangelo. Noi uomini possiamo commettere qualunque errore, qualunque tipo di peccato, ma la verità del Vangelo rimane sempre. Cioè tu Gesù non lo puoi, non puoi essere deluso da Lui, tu puoi essere deluso dagli uomini, ma il Signore rimarrà sempre. Il Signore dirà sempre io ti ho amato per primo, io ho dato la mia vita per primo, convincetemi di peccato perché Lui era santo. Cioè davanti a Gesù noi possiamo discutere di uomini, possiamo discutere di religiosi, ma davanti a Gesù non si discute. Davanti a Gesù l'uomo, la donna può solo genuflettersi interiormente, anche fisicamente, dire Signore tu sei il Signore altissimo, tu sei il creatore, è per te che io posso essere trasportato dalle tenebre alla luce, è per te che io posso godere di una pace che nessun altro ha, nessun altro ha. Quindi la sua verità rimarrà sempre il Signore. E ogni uomo e ogni donna dovrà rendere conto al Signore. Non c'è una via alternativa, per andare in cielo c'è una sola via, è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita, così disse in Giovanni 14, 6. Non ci sono, è Lui che dovremo affrontare. Benedetto chi si prepara in questa vita. Chi si prepara in questa vita è colui o colei che si avvicina al Signore, ama Gesù, lo riconosce come Salvatore, ama, legge la sua parola, condivide l'amore di Dio nella Chiesa e condivide l'amore di Dio con il prossimo. Perché il prossimo nostro non è solo la comunità, non è solo la famiglia, è chi incontriamo. C'è quella dolce serenità, quella bellezza interiore che le persone non possono non conoscere. È una purezza che quando una persona riceve Cristo riceve anche quello, man mano cresce nella nostra vita e questa purezza fa sì che gli altri la riconoscano e la riconoscono proprio quelli che sono più lontani, quelli che sono abituati a vivere nelle condizioni più difficili della vita. Provate ad andare da un ladro, provate ad andare da un tossicodipendente, provate ad andare da persone che ubriaconi o coloro che tossicodipendenti subito vedono che voi avete una luce, si accorgono che i figlioli di Dio sono diversi perché hanno qualcosa dentro che loro magari desiderano, che loro magari vogliono perché stesso loro non vogliono più vivere quella condizione, si rendono conto che è dura per loro, anche se la vivono da tanti anni e si rendono conto che guardando un fratello, guardando una sorella, guardando un figliolo di Dio, loro riconoscono che c'è qualcosa di diverso e quel qualcosa di diverso è la presenza dello Spirito di Cristo nella nostra vita. Questo Spirito meraviglioso, lo Spirito Santo che ci rende diversi, ci cambia. la domenica delle palme al Signore Gesù viene attribuito un tripudio, una gioia, vengono accolti, vengono battute le mani, vengono cantate, loro credono e anche i discepoli credono che Gesù sia come Napoleone, un novello condottiero che li porterà alla guerra e vinceranno le battaglie contro i romani oppressori. Non hanno capito che Gesù vincerà un'altra guerra ben più importante, la guerra che c'hai nell'anima, la guerra che c'hai nel cervello, la guerra che solo Dio ti può dare pace. Non c'è nessun uomo, nessuna donna che non abbia guerra qui dentro. Guerra significa che pensa, ripensa, chissà, che faccio domani, che dico. Guerra perché si sente in colpa, guerra perché non vorrebbe sentirsi in colpa, guerra perché detesta qualcosa che ha subito, guerra perché vorrebbe qualcosa che ha e invece Gesù mette pace. Oh Signore, il Signore ti mette in pace anche dalle ansie della vita, dalle preoccupazioni. Non è che le preoccupazioni li risolve. Attenzione, vorrei dire questo a tutti, le preoccupazioni non le avremo, le persone senza preoccupazioni diventano poi depresse. Invece le preoccupazioni in modo giusto, equilibrato, fanno bene perché diamo dalle risposte alla vita, siamo impegnati. Allora sono buone, ma quello che voglio dire è che con Gesù la preoccupazione diventa più facile, diventa più semplice, diventa più piccola perché tu la sposti su di Lui, Signore, ti prego per questo problema, ho bisogno che tu mi aiuti e io voglio fare ciò che piace a te. Quando avete qualche difficoltà, fratelli e sorelle, ricordatevi, fate ciò che piace a Gesù, rispondete come piacerebbe a Gesù, guardate come guarderebbe Gesù, relazionatevi come si relazionerebbe Gesù e questo vi darà una grande pace e soprattutto le persone attorno a voi troveranno un motivo perché noi siamo il motivo, perché la Chiesa è il motivo. Quando parlo di Chiesa parlo di persone, di uomini e donne, siamo il motivo perché le persone si interragano e dicono ma c'è qualcosa di diverso? Sì, c'è il Signore, c'è il Signore della gloria. Alla Domenica delle Palme Gesù entrò, si fece e mandò i discepoli, io non ho letto tutto il brano, ma mandò i discepoli a prendere un asino, un'asina e un pulidro e disse dopo il Signore ne ha bisogno e poi ve lo ristituisce, non è che lui non ha bisogno di appropriarsi dei beni altrui e prenderanno quest'asina e questo pulidro, un pulidro su cui non era mai montato nessuno e l'asina serve di accompagnamento, ossia fa stare più quieto il pulidro, è più facile cavalcare un pulidro vicino alla mamma, va bene diciamo così in modo che comprendiamo il motivo, ma soprattutto perché in Zaccaria 9 dice il tuo re viene umile e che monta su un asino. L'asino era una cavalcatura usata dai rettori di Israele, cioè dalle persone che studiavano, non era qualcosa di brutto cavalcare un asino all'epoca, anzi il Signore aveva detto in deuteronomio di non allevare molti cavalli perché il cavallo era il simbolo della guerra, simbolo della fierezza, ma aveva dato un limite a Israele, non allevare molti cavalli, non tenerte per molti perché sarò io la tua forza, infatti dice in Isaia non confidare nei cavalli d'Egitto perché è il Signore la nostra forza. Ora il Signore prende l'asino, sale su un asino e tutti quanti, chi prende i vestiti, chi prende la propria giacca, io dico giacca perché loro avevano, scusatemi, avevano un vestito, come noi che abbiamo sette armadi e che dobbiamo spingere la roba nell'armadio, loro non avevano il problema di appendere, non avevano manco la lavanderia, fratello. Allora quindi avevano un vestito, ma quello che hanno lo mettono sul dorso dell'asino, alcuni li mettono a terra e sono così felici che il Signore sta entrando, che il Signore è contento che noi siamo felici, è contento che abbiamo gioia in Lui, è contento che gioiamo con Lui, è contento perché Lui è venuto per dare gioia al suo popolo. No, noi abbiamo il dovere, il diritto, nonostante le avversità, a non essere dei piagnoni, dei lamentosi, noi abbiamo il Signore della gioia. È vero, se proprio hai bisogno di piangere come me o hai bisogno di lamentarti, vai nella tua cameretta e piangi pure tre ore, gloria a Dio, vuol dire che ne hai bisogno e se ne hai bisogno fallo, perché ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di avere dei momenti davanti al Signore. Ma noi abbiamo il diritto e il dovere, quando ci riuniamo, fratelli, di glorificare il suo nome, di rallegrarci nelle opere che Lui ha fatto, di contemplarlo, di dire che il Signore merita, merita, io ho presentato una vita di preoccupazioni, una vita di ansia, sto sempre a dire Signore aiutami, aiutami, no, stamattina e quando mi riunisco nella Chiesa, quando vengo qui, io voglio lodare il suo nome, acclamate, dice nei Salmi, lodate il Signore, il Salmo 150. Quando ci riuniamo nella Chiesa, fratelli e sorelle, noi dobbiamo sentire dentro quel sentimento di riconoscenza, Signore per una settimana mi hai guardato, per una settimana mi sono lamentato, per una settimana mi sono indaffarato, per una settimana ho avuto dei giorni che mi sono arrabbiato, ma oggi voglio lodare il tuo nome, oggi voglio lodare il tuo nome, Signore, perché a Te piace essere lodato, a Te piace essere magnificato, il Signore, il nostro Dio, si compiace di scendere nelle loti del suo popolo, questo dice la parola di Dio, ed è qualcosa che sconfigge l'avversario, lo sapete? La nostra gioia, la gioia che abbiamo in Lui, la lode, abbatte l'avversario, le mura di Gerico caddero con la lode, è vero, quando noi lodiamo il Signore, sapete che succede? Gli angeli dicono, guarda questi, non avrebbero motivi di lodarlo, ma il loro motivo è Gesù Cristo e lo lodano e lo benedicono, amèn? Amèn? Magari qualcuno sta aspettando un posto di lavoro o delle risposte, poi chiede, Signore, io voglio dirti una cosa, tu loda il Signore, benedicilo, sia benedetto il suo nome, riempi la casa, Signore sia benedetto il tuo nome, ti benedico perché mi hai salvato, ti benedico perché ho una persona che ammiro, Gesù, ti benedico perché sei il mio esempio, ti benedico perché non sei morto solo per me, ma sei morto per i miei figli, per mia moglie, per i miei nipoti, non sei morto, sei morto per i miei amici, Signore, ti benedico perché hai creato qualcosa di straordinario, Signore, ti benedico perché ogni giorno quando mi alzo posso godere del sole, della luce, del mare, posso camminare, posso benedire il tuo nome, posso ringraziarti perché metto il piatto a tavola, perché ho ancora la forza di lavorare, Signore, posso benedirti ogni giorno e soprattutto posso riposarmi, quando vado a letto posso stare in pace, non ho paura che possa venire la polizia, i carabinieri, non ho paura che possa succedere, l'unica cosa può venire nascosta di terremoto perché abito alla pietra, ma mi sono anche abituato, vabbè viene, si balla dico a mia moglie, va bene, questo è, non c'è timore quando male, quando tu non fai del male, quando tu cammini nelle vie del Signore, chi ti farà del male, perché devi avere paura di altri, immaginate chi, fratelli, può farci paura, è vero, perfino la morte dice il Signore, dice l'Apostolo Paolo, morte dov'è la tua vittoria, nel senso che nella paura che avremo tutti, in quel momento sarà sostenuta dalla speranza di Cristo, questo voglio dire, non dico che non avremo paura, ma dico che in quel momento la speranza, la testimonianza di Cristo nella nostra vita, ci aiuterà a passare alla vita eterna, al dono più grande che un uomo o una donna può ricevere, la salvezza. In questa festa delle palme viene gioito, viene chiamato re, viene innalzato Gesù, Gesù e i religiosi si preoccupano quando tu innalzi veramente Gesù. fino a quando ti attiene a delle regole, a delle forme, a delle tradizioni va tutto bene, ma quando tu cominci invece ad attenerti alla parola di Dio, le cose non vanno più bene, perché non sei più conforme agli altri, sei diverso, e gli altri in questa diversità vedono le loro colpe, vedono le loro colpe, e i religiosi questo fanno, perché tu non fai così come noi? I farisei dissero a Gesù, perché i tuoi discepoli non si lavano le mani? Perché? E Gesù gli disse, voi nettate la coppa solo di fuori, avete solo una facciata esterna, ma nettate il cuore dal dentro, preoccupatevi prima di pulirvi dentro, perché dentro vi posso pulire solo io, l'uomo non si può pulire da solo, è il sangue di Gesù che ti pulisce, è lui che ti toglie l'invidia, la superbia, la bramosia, l'avidità, la cattiveria, è lui che ti libera, è lui che toglie questa radice velenosa dall'anima, solo il Signore lo fa, solo Dio fa questo miracolo e lo fa da millenni, da quando l'uomo è uscito dalla sua presenza, ancora oggi la tua radice è dentro di te, vedi, tu non la puoi togliere, tu non puoi dire io voglio fare, no, è la mano di Dio che ti toglierà, perché se tu togli una radice tu con la tua forza ne spunterà un'altra, ma se la toglie Dio l'altra non spunterà, amè? Amè? Ora fratelli e sorelle, io voglio terminare, chiaramente i religiosi dissero, fai star zitto, è bello, una bella chiesa, tutte di morti, di cadaveri, è vero, facciamo una bella funzione, tutto in silenzio, ora Pronobis è tutto in pace, fratello tu sei vita, tu partecipi, tu sei il corpo di Cristo, tu lodi, canti, prechi, saluti, hai un'attività, sei vivo, non sei più morto, non stai più nella tomba con Lazzaro, Gesù dopo che aveva risuscitato Lazzaro, è in Giovanni 12, viene festeggiato, non stiamo più nella tomba, siamo vivi, siamo vivi, partecipiamo, l'odiamo, benediciamo il suo nome, battiamo le mani, alziamo le mani, c'è chi le alza un po' di più, chi le alza un po' di meno, chi batte un po' più piano, ma partecipiamo, siamo qui per partecipare con Lui, per essere corpo, per muoverci insieme. Allora fratelli, Gesù disse guardate, Lui confermò quel popolo che osannava il suo nome, osanna nei luoghi altissimi lo dirà anche, lo sapete chi lo dice pure? In Luca, capitolo 2, gli angeli, alla nascita di Gesù, gloria nei luoghi altissimi, è vero, la stessa gloria, e quando cielo e terra si uniscono, fratelli, è qualcosa di straordinario, ma tu ci pensi che quando lodi stai lodando anche gli angeli? Ma ti rendi conto che la vita non è qui e che in cielo c'è una vitalità, c'è il principe della vita, c'è un'esplosione di vita in cielo e gli angeli glorificano Dio e noi glorificiamo insieme a loro, è una benedizione incredibile, Signore grazie, è vero, e il Signore disse ai farisei, se costoro stessero zitti, le pietre grideranno, amè? Cioè il Signore dice, se è stabilito che io debba essere glorificato, nessuno potrà formare la gloria che il Padre ha stabilito per me oggi, amè? Quindi io non voglio che le pietre parlino, o meglio, un tempo noi eravamo pietre, adesso siamo viventi, siamo pietre viventi, viviamo, e quindi siamo noi che lo lodiamo. E voglio terminare con un versetto dell'Apocalisse, il quale dice che Gesù non tornerà più sull'asino, perché sull'asino lui è venuto umile come salvatore, ma quando Gesù ritornerà, ritornerà come giudice, verrà a giudicare. Un giorno, vi racconto questa storiella per rendere più chiaro questo concetto, un uomo cadde nel fiume, un altro uomo si trovò a prassare, era un bravo nuotatore, si buttò nel fiume e riuscì a salvare questo uomo che stava affogando, la conoscete? Stava affogando, allora lui era un bravo nuotatore, riesce ad afferrare quest'uomo, lo prende, lo sapete che quando si va a salvare qualcuno si prende sempre di spalle, ma è davanti, perché altrimenti vai pure giù tu, e se lo tira arriva, e lui tutto felice, grazie, mi hai salvato, mi hai salvato, era riconoscente a tutto. Ora i due si separano, ci incontriamo, ci salutiamo. Questo che stava affogando era un ladro, ma quello lì non lo sapeva. Un giorno il ladro viene arrestato e viene portato in tribunale, e sul tribunale chi ci sta? Chi è? C'è il giudice, c'è, o meglio, c'è quello che l'ha salvato. Dice, allora il ladro vede, uh, è lo stesso che mi ha salvato nel fiume, adesso avrò... È un amico. Allora il giudice gli disse, ieri ero il tuo salvatore, oggi sono il tuo giudice. E così Gesù verrà sul cavallo bianco, verrà come un grande condottiero, verrà a giudicare quelli che si sono comportati secondo la sua volontà e quelli che hanno accettato la sua volontà. Io voglio dirti che io ho accettato la sua volontà e tanti l'hanno accettato. Quel giorno come vedrai, Signore? Come è il tuo giudice o come è il tuo salvatore? Per me sarà il mio salvatore. E voglio a Dio che anche stamattina diventi il tuo salvatore. Perché c'è un solo salvatore, tu non ti puoi salvare da solo. Tu stai affogando e chi ti salva? È Gesù Cristo. Quando Pietro stava affogando, Gesù gli tese la mano. Lo tiro su, uomo di poca fede. Non c'è bisogno di molta fede, c'è bisogno di poca fede. Devi credere che Gesù Cristo è morto per te ed è risorto per te. Sia benedetta la sua parola. Bye-bye.